ciao benvenuto o bentornato su questo canale in questo video andiamo a vedere come fare modifica un sonoff mini per poter avere un contatto pulito in uscita anziché avere l'uscita 230 volt andiamo a vedere come fare quindi andiamo a vedere come effettuare questa modifica per poter ottenere un contatto pulito in uscita dal sonoff mini visto che le scritte non si leggono bene le riporto in matita così si possono vedere anche in camera e abbiamo rispettivamente n in n in poi abbiamo l in l out ed s1 s2 andiamo ad alimentare il sonoff quindi avremmo l in n in dove li porteremo la tensione d'ingresso 230 volt collego la spina per alimentarlo e andiamo a vedere cosa succede sull'uscita impostiamo il multimetro in misura tensione alternata uscita viene presa sempre con riferimento al neutro l out misuriamo praticamente 0 volte se andiamo attivarlo in uscita mi dà i 227 volt bene quindi la soluzione migliore per effettuare questa modifica no intanto tolgo corrente al sonoff la cosa migliore è utilizzare un relè un relè con bobina 230 volt bobina 230 volt e collegarlo direttamente sull'uscita del sonoff quindi andiamo a collegare il neutro e la fase su l out quindi non abbiamo fatto altro che collegare l'uscita del sonoff direttamente sulla bobina del relè alimentiamo di nuovo il sonoff e possiamo vedere quando andiamo ad attivarlo che mi fa scambiare il relè mi attiva e mi disattiva così è disattivo così attivo sull'uscita del relè possiamo andarci a prendere tutti i contatti che vogliamo per avere il contatto pulito in uscita questa è la modifica meno invasiva che si possa fare ovviamente l'ingombro cambia è anche vero che questo qua è un relè abbastanza grosso ce ne sono anche altri che sono molto più piccoli quindi si riesce a limitare lo spazio di ingombro adesso disalimentiamo di nuovo il sonoff scolleghiamo tutto e andiamo a vedere come effettuare una modifica per ottenere il contatto pulito direttamente qui in morsettiera lo andiamo ad aprire che ha due incastri uno da un lato e uno dall'altro lato bisogna fare una leggera pressione da questa parte e infilare un po il cacciavite dentro in modo che si sganci la stessa cosa da quest'altra parte togliamo via il circuito stampato che c'ha delle linguette qua ok adesso io smonterò la morsettiera e il relè in modo tale da vedere i collegamenti come sono fatti sotto e poter andare a vedere cosa fare per effettuare le modifiche questa è una cosa che non dovete fare poi più avanti vedrete dove andare ad agire per fare la modifica allora 1 e 2 sono la bobina e abbiamo 1 e 2 che sono il contatto procediamo col togliere la morsettiera una volta tolta via la morsettiera dobbiamo andare a togliere anche il relè in allora guardandolo così abbiamo i due neutri linea di ingresso e linea di uscita allora linea di uscita è collegata direttamente e solo sul contatto del relè poi abbiamo la linea di ingresso che è collegata sull'altro contatto del relè ma ci va anche poi ad alimentare il circuito questa lista da tagliare che dal contatto alimenta poi tutto il circuito sulla morsettiera dobbiamo liberare uno di questi due contatti del neutro quindi come abbiamo potuto vedere a noi interessa tagliare questo dobbiamo fare un taglio qua qua c'è un'altra pista che ci unisce questi due per permettere che arrivi il 230 volt sul ponte di diodi quindi noi facciamo un taglio completo qua del dello stampato passando oltre e poi facciamo un altro taglio qua per separare questi due morsetti anche qua dobbiamo tagliare completamente tutto lo stampato perché c'è una pista dalla parte opposta quindi facciamo questo taglio aiutandoci con un trappano multifunzione e andiamo ad usare un disco da taglio e possiamo procedere con il taglio ovviamente bisogna cercare di non andare troppo a fondo perché altrimenti andiamo a prendere la morsettiera e in quest'altro caso andiamo a prendere il relais quindi procediamo quindi il primo taglio lo abbiamo fatto adesso facciamo il secondo e bisogna fare un po più di attenzione bene una volta fatti i tagli ci andiamo a assicurare con il multimetro impostato in prova continuità che tra questa pista e quest'altra non ci sia continuità la stessa cosa tra questi altri due morsetti quindi siamo certi di aver tagliato le piste anche sottostanti a questo punto abbiamo questo morsetto qua quindi il secondo che prima era il neutro collegato insieme a questo che è completamente isolato da tutto poi abbiamo il terzo che era la linea di alimentazione 230 volt che adesso ci va solo sul contatto del relais l'altro capo del contatto del relais va a finire sulla morsettiera in uscita già diretto quindi su questi due morsetti avremo il contatto pulito del relais adesso però abbiamo tutto il circuito che è alimentato dal neutro di ingresso tramite questo morsetto il primo e la linea di alimentazione adesso non è collegata da nessuna parte noi faremo un ponticello tra questo e il secondo morsetto così facendo alimentiamo a 230 volt sui primi due morsetti che ci andrà alimentare il circuito elettronico del sonoff quindi andiamo a fare questo ponticello in pezzo di filo lo spegliamo lo attorcigliamo andiamo a mettergli un po di stagno anche sui due punti dove dobbiamo andare a saldare il filo tagliamo quello in eccesso e abbiamo il sonoff con la modifica adesso richiediamo il tutto la cosa importante è bene identificarlo in modo tale che poi se si rifanno dei collegamenti si evita di fare cortocircuiti cancello queste scritte che avevo fatto e andiamo a rifare le scritte giuste quindi abbiamo il primo morsetto che sarà il neutro il secondo morsetto e la linea sul terzo e quarto morsetto abbiamo il nostro contatto invece questi restano s1 e s2 bene controllare che non ci sia nessun collegamento tra neutro e 2 e tra la linea e 2 la stessa cosa tra neutro e linea se c'è qualche cortocircuito è bene eliminarlo andiamo a dargli alimentazione questa volta gliela diamo sul morsetto l e morsetto n attacchiamo alimentazione andiamo a misurare in prova continuità tra i due del contatto accendiamo il sonoff perfetto anche se queste modifiche le sconsiglio sempre l'ideale come vi ho fatto vedere prima usare sulla sua uscita originale un relè con la bobina 230 volt e di là poi possiamo fare quello che vogliamo bene se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere un like iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti lasciate dei commenti condividete il video grazie per aver visto video e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao